A tutto lo staff della Festa della Solidarietà di Fossò sono le tre campane. Questo è Ray Giardini. Il giorno è tutti quanti, stretti intorno, che lo portano alla chiesa. La campana del villaggio, oggi suona anche per lui, ed il cielo è come un fiore. Che si apre agli occhi suoi, ma la gente che lo guarda, pensa all'altro come noi. Hanno scelto già il suo nome, la campana suona ancora, mentre il sole se ne va. La cala il vento nella valle, la domenica di Pasqua, due ragazzi. Lui ha vent'anni di lavoro, la sua donna mi assomiglia, la sua donna. La campana del villaggio, anche oggi suona lui. Laura. Laura. L'amore li accompagna, ma la vita è tutta qua, ed il vento batte forte. La campana suona ancora, mentre il sole se ne va. è il più bello dell'orchestra, è Simone Cuccarini. La campana del villaggio, anche oggi suona lui, un riposo tanto dolce, non aveva avuto mai. La campana del villaggio, anche oggi suona lui, un riposo tanto dolce, non aveva avuto mai. La campana del villaggio, anche oggi suona lui, un riposo tanto dolce, non aveva avuto mai. La campana del villaggio, anche oggi suona lui, un riposo tanto dolce, non aveva avuto mai. Cala il vento nella valle, la campana suona ancora, mentre il sole se ne va. Se ne va. Questi sono i arrondicini. Siete molto gentili, facciamo scendere tutti i ragazzi dell'orchestra, i nostri tecnici, il Conte, Gioacchino, Baldo. Li vogliamo tutti in pista questa sera qui a Fossò, il grande completo. Eccoli qua, veloci, 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 veloci. Vogliamo anche il signor Ferraresso qui in pista. Eccoli qua. Signori, questa è l'orchestra dei Rodigini. Abbiamo il patron, Ferraresso, tutto lo staff, complimenti, complimenti veramente. Ti diamo la parola, Ferraresso, vai. Dobbiamo dare un omaggio a Floreale a queste bellissime ragazze. A voi no, potete andare. Grazie, grazie, grazie mille. Ecco, l'orchestra dei Rodigini, noi ogni anno la vogliamo qui presenti. Va bene.